Prefettura, Banche e Forze dell'Ordine, insieme per contrastare e prevenire il fenomeno delle truffe finanziarie. E' con questo intento che attorno al tavolo prefettizio si è costituito il Comitato di coordinamento per la prevenzione delle truffe finanziarie. Presieduto e coordinato dal Prefetto Maria Teresa Cucinotte, composto dai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e dal rappresentante della Commissione regionale ABI, Claudio Passerini, il Comitato si prefigge di informare i cittadini, soprattutto gli anziani e soggetti con scarsa educazione finanziaria, attraverso piccoli accorgimenti che è possibile ad esempio consultare sull'apposita sezione del sito internet della Prefettura di Caltanissetta e che riguardano più in particolare quali precauzioni occorre adottare quando si preleva contante o si effettuano operazioni allo sportello bancario. Questo Comitato ha il compito proprio di tracciare delle linee e di dare delle indicazioni formative e informative affinché ci sia la prevenzione del fenomeno delle truffe rivolto prevalentemente agli anziani e a quelle persone che hanno meno familiarità con le tecniche finanziarie. Quindi noi pensiamo di costituire presso il sito della Prefettura un apposito link dedicato dove verranno descritti comportamenti virtuosi o dati e indicati alcuni accorgimenti. Una parte importante dell'attività del Comitato sarà poi quella formativa che verrà svolta anche con il coinvolgimento delle scuole perché il Comitato può essere integrato anche con rappresentanti delle scuole, dell'Associazione dei consumatori e noi in un secondo tempo tracceremo le linee guida e poi faremo questi altri incontri a tema dedicati.